Come chi c'era l'anno scorso, credo anche l'anno prima, cominciamo con un po' di meditazione guidata. Alcuni sono felici, altri meno, ma intanto sarà breve. Il più possibile teniamo la schiena compatibilmente sul posto dove siamo seduti, teniamo la schiena eretta, nella misura del possibile, cioè non così, ma così. Le mani le possiamo tenere raccolte in grembo, gli occhi come preferite, chiusi, socchiusi, aperti, questo varia a seconda delle tradizioni nel buddismo. Come molti di voi sanno, un oggetto di attenzione molto diffuso, molto in tutte le tradizioni dell'Oriente, è l'attenzione alla respirazione. Quindi voi seduti in questo modo, ben disposti, con il corpo nella posizione migliore per fare un po' di meditazione, tutte le volte che la mente divaga, la riportate fermamente, ma gentilmente, all'attenzione al respiro, cioè ispirazione e ispirazione. Se volete una piccola facilitazione, nell'inspirare mentalmente dite in, nell'espirare mentalmente dite out. In inglese perché sono brevi le parole, dentro fuori è un po' pesante. Allora fate però in modo che in copra l'inspirazione, cioè non dite prima in e poi ispirate. In e poi out copra l'espirazione. Queste cose vanno dette mentalmente. Qui non c'è nemmeno un campanellino. C'è qualcosa che suona? Grazie. Se no faccio così. Cominciamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Innanzitutto, ma questa non è per oggi, rendersi conto dell'invasività e della frequente inutilità dei pensieri che ci ronzano per la testa. Non a caso l'immagine che c'è in India, non soltanto per la tradizione buddista, è quella della scimmia, cioè la scimmia che salta di ramo in ramo. E quindi la mente scimmia, oppure è frequente, e ne parleremo, la parola proliferazione mentale concettuale. Ecco, noi siamo molto spesso preda di proliferazione mentale concettuale. E come annota il Buddha, la proliferazione ha sempre a che fare, o quasi sempre, con l'io mio, che è il modo più sintetico di definire, e di questo si parlerà, L'ostacolo, l'inquinante, quello che ci impedisce il benessere, quello che ci impedisce, in ultima analisi, di essere più felici. Teniamo presente che stiamo meditando insieme. Un gruppo di persone che meditano insieme è già un sangha, cioè una comunità di meditazione. E questo, per la stragrande maggioranza delle persone, sorregge quando si medita. Noi a Roma, per esempio, abbiamo persone che dicono francamente che riescono a meditare, e a meditare con un certo gusto, soltanto quando vengono alla nostra sede di meditazione, mentre trovano difficoltà a casa. C'è un gruppo che ci sostiene lì. Un grande maestro asiatico di questa tradizione, Ajahn Chah, a chi si lamentava dei rumori, diceva «Lasciate in pace i rumori, non andate a disturbare i rumori», volendo dire che, perlomeno in parte, dipende da noi il fastidio. «Lasciate in pace i rumori, non andate a disturbare i rumori, non andate a disturbare i rumori, non andate a disturbare i rumori». Spesso le persone hanno familiarità solo con silenzi depressi, di persone magari che le circondano che sono depressi. Quindi scatta questa associazione. Silenzio, depressione. Silenzio, giù. Ecco, questo, praticando, questa cosa cambia, cambia molto. Quando si va in un ritiro, se il primo giorno è difficile perché sono tutte sedute, camminate, sedute e camminate, poi già al secondo, al terzo giorno si comincia progressivamente, ma tanto, ad apprezzare il silenzio e dà fastidio alla fine del ritiro ritrovarsi in un non silenzio, a volte particolarmente chiassoso. Abitare il presente. La mente, per fortissima abitudine, vuole andare di qua, di là, nel passato, nel futuro, e poi di nuovo, nel passato, nel futuro. Il futuro può essere oggi, quando esco da qua, che faccio? Il passato può essere ieri, oppure cose lontane. La proliferazione. Da una parte. E dall'altra, se percorriamo un cannino, momenti, magari a volte un po' lunghi, di silenzio mentale, che più li sperimentiamo e più li apprezziamo. Nei contemplativi cristiani del deserto, parlo della cristianità ortodossa, ma anche nella cristianità cattolica, nei contemplativi cattolici, si parla di evagatio mentis, la mente che vaga. Anche questo rende molto quello di cui stiamo parlando, la mente che vaga. la mente che vaga. La mente che vaga. E' una chiave importante. è formulata così stare con le cose così come sono che è diverso da stare con le cose così come le vogliamo noi cose, persone e indurirci diventare avversivi quando le cose non sono come le vogliamo noi sentite che ristrettezza che contrazione che c'è e volete che le cose siano come e soltanto diciamo noi e per contrasto ok accetto le cose così come sono e se debo mettere rimedio a qualche cosa lo farò nella maniera più gentile ferma e gentile e Grazie. Ieri Vito Mancuso citava la Simone Veil. Io penso che le conoscenze della Simone Veil erano soprattutto classiche, occidentali, con qualche escursione nell'induismo e molto poco, credo, posso sbagliarmi, nel buddismo. Ma la Simone Veil diceva che la chiave di tutto è l'osservazione attenta. Ecco, la meditazione di cui ci occupiamo qui, ora, è la meditazione di chiara visione. O come vedremo nel discorso, attenzione non giudicante. E siamo così abituati a essere stimolati alla nostra mente, e questo stimolati non ha nessun valore positivo, particolare, nemmeno negativo, ma di fatto la mente stimola, stimola. Che quando succede a volte che riusciamo a diminuire, nei modi che stiamo descrivendo, diminuire lo stimolo, beh, la persona si addormenta, perché non c'è più quella forte stimolazione, non c'è più quel fiume proliferante che in continuazione ci domina. Al contrario, però, appena si comincia a gustare qualche momento di pace, e ne parleremo qualche momento di raccoglimento, questo viene percepito come energia, perché è energia. Questo era un segno di fine. Insieme ad Armando abbiamo pensato di intitolare questa chiacchierata La veglia luminosa. Partiamo da una premessa. In questa comunicazione vorrei riflettere intorno a un'area importante nell'ambito buddista, e cioè i modi attraverso i quali la notte, intesa come oscurità, visione confusa, si manifesta nel nostro vivere quotidiano, attraverso le forze oscuranti degli inquinanti mentali, ossia attaccamento, avversione e ignoranza o confusione. Inquinanti, che si badi bene, pur essendo potenti e invasivi, sono tuttavia passeggeri e non rappresentano la vera natura della mente. Infatti, le scritture definiscono la vera natura della mente come chiara e luminosa. Ripeto, chiara e luminosa. Cioè, sotto tutto il vorticare dell'io mio, degli inquinanti, eccetera, c'è qualcosa di chiaro e luminoso. E questo è condiviso con tante tradizioni spirituali. Quanto allo stato di veglia, lo intenderemo come spazio nel quale è possibile il risveglio del discernimento e della luce della consapevolezza. La consapevolezza discernente è, per molti versi, il fattore chiave del cammino interiore insegnato dal Buddha, in tandem, per dire così, con la pacificazione mentale, Samatha o Samadhi. Vediamo ora di procedere a qualche approfondimento di quanto detto finora. Se ci rifacciamo una certa scrittura, itibuttaga, osserviamo che la perfetta comprensione testuale di ciascun inquinante ha come conseguenza il liberante abbandono progressivo di quell'inquinante. Notiamo a questo proposito una consonanza con la metafora alchemica, secondo la quale è possibile trasformare i metalli vili in oro. Nel nostro caso, l'equivalente della pietra filosofale sarebbe la consapevolezza alla quale si chiede di non ignorare e di non reprimere gli inquinanti, ma piuttosto di guardarli ripetutamente e pazientemente, stabilendo con essi una dimestichezza. cioè questo sfocia nella creazione e questo sfocia dunque nella creazione di un campo energetico nuovo fatto di calma concentrata e di consapevolezza discernente. Questo campo energetico porterà a una salutare riduzione degli inquinanti e nel caso che il nostro cammino interiore sia molto maturato e dunque la consapevolezza discernente sia approfondita e col suo aiuto la calma concentrata, torneremo su questo, sia diventata pace interiore, le scritture dichiarano che allora gli inquinanti si dissolveranno. Questa è definita illuminazione, ovvero liberazione irreversibile della mente cuore, con conseguente grande felicità. Breve nota a margine. Perché abbiamo appena detto che la calma concentrata o samadhi è diventata pace interiore con l'aiuto della consapevolezza discernente? Ma perché grazie alla consapevolezza discernente appare chiaro che l'attaccamento alla calma concentrata, come tutti gli attaccamenti, è causa di sofferenza. In virtù di ciò, la calma concentrata, non più inquinata dall'attaccamento, diventa un fattore cruciale per suscitare la pace interiore, che è qualcosa di più solido e profondo della calma concentrata. E per chi di voi medita o intende meditare, tenete presente che c'è una forma di attaccamento molto forte le prime volte che sentiamo, magari breve, ma un vero stato di quiete mentale. Lo rivolgo. Diventa l'ossessione del praticante. Che bello che è questo. Lo rivolgo. Io mi è capitato di avere in colloquio, durante i ritiri, dei meditanti disperati. Era così bello. E non c'è più, non lo trovo più. E allora non mi resta che, così, far balenare l'ipotesi di un attaccamento. Sai qual è la pratica? Anzitutto, confrontarsi con gli inquinanti. Il fatto che l'attaccamento sia a uno stato mentale, non è, diciamo, ma questo è un attaccamento di serie A. No, attaccamento, punto. E con molta fatica, a volte, la persona mette da parte questo sogno e così si rimette. Inspirazione, espirazione. Però era tanto bello. Inspirazione, espirazione. Allora, concludendo questa premessa, sottolineo il fatto che non è possibile rivolgersi con fiducia alla luce della consapevolezza senza essersi decisi, con umiltà e coraggio, ad incontrare la sofferenza dell'oscurità. La luce della consapevolezza, come si è detto, è sempre presente ed è la nostra natura, laddove l'oscurità è il frutto degli inquinanti. Armando, in buon aiuto, mi ha chiesto ma non ci sono casi in cui l'oscurità, come per chi ha seguito vari incontri, abbia una valenza positiva? Ma ho chiesto anche a buddologi, nell'insegnamento del Buddha o è bianco o è nero, insomma, non c'è questa cosa. Forse nel buddismo successivo può esserci, ma nell'insegnamento del Buddha non c'è. Allora, il resto di queste riflessioni si occuperà soprattutto di sviluppare gli argomenti che abbiamo toccato in questa premessa. Poco fa, citando le scritture, ci siamo imbattuti nell'espressione perfetta comprensione degli inquinanti. Domandiamoci cosa vuol dire perfetta comprensione degli inquinanti. Significa, in primo luogo, che la comprensione non deve essere intellettuale. E questa è una grossa differenza. O meglio, che una corretta comprensione intellettuale è solo la base, può essere solo la base, è solo una prima indicazione. Dopodiché entra in ballo la meditazione di chiara visione o vi passano, che anzitutto non si identifica con gli inquinanti, che è quello che spesso si fa col risultato che veniamo comandati dagli inquinanti, ma piuttosto li contempla ripetutamente, dicono le scritture, in tal modo percependo e comprendendo tutta la loro energia negativa. E questa comincia a essere una comprensione profonda o perfetta, come dice quel testo, di quanto siamo dominati e guidati dagli inquinanti. E questo dominio su noi degli inquinanti è la fonte maggiore del dolore che infliggiamo a noi stessi spesso senza avvedercene. Abbiamo dunque messo in rilievo la potenza e l'energia degli inquinanti. Sappiamo poi che il principale strumento per lavorare con gli inquinanti è la consapevolezza sati in lingua paria. Tale strumento, la consapevolezza tuttavia, per essere efficace deve essere accompagnato da vari fattori concomitanti, i più importanti dei quali sono il discernimento, l'equanimità, la gentilezza amorevole. L'equanimità è tra le virtù maggiori insieme a fiducia e pazienza dell'insegnamento del Buddha. Essere equanimi significa in due parole che al mi piace non segue l'attaccamento e al non mi piace non segue l'avversione. Quindi dire equanimità matura equivale a dire tanta libertà interiore. Mi è parso interessante poi che il Buddha definisca il lavoro interiore come un cammino controcorrente. Un cammino controcorrente. Certo, qualcuno alle prime armi della pratica di meditazione potrebbe scoraggiarsi. Ma lo stesso Buddha sembra aver previsto queste paure. Infatti, in più di un luogo delle scritture, egli rassicura i suoi discepoli dicendo è possibile ragazzi, altrimenti non ve l'avrei insegnato. Cioè, non dice avanti i miei prodi nell'impossibile, no. Vi ho detto una cosa che si può fare. Notiamo in questo come in altre dichiarazioni del Buddha un certo pragmatismo che le caratterizza. Sempre a proposito del cammino controcorrente dobbiamo annotare quanto segue. Come è noto nel buddismo si parla di tre gioielli nei quali si prende rifugio cioè il Buddha, il Dharma cioè l'insegnamento e il Sangha ossia la comunità dei praticanti. Ora, a me sembra che una delle ragioni per l'esistenza del Sangha sia quella di sostenere i praticanti e lo accennavamo poco fa. Infatti possiamo anche essere entusiasti degli insegnamenti e del cammino interiore ma se siamo praticanti isolati e dunque privi di un Sangha anche piccolo di riferimento andare controcorrente evidentemente è più difficile. ora consideriamo brevemente l'ambito della spiritualità cristiana. Qui se si guarda per esempio a Santa Teresa d'Avila Castello interiore la sua opera vediamo che tra i fattori che predispongono alla contemplazione al primo posto Santa Teresa pone l'umiltà e lo stesso si dica del suo maestro Giovanni della Croce San Giovanni della Croce che dice a misura che l'umiltà svuota l'anima dalle vane e orgogliose pretese dell'io fa posto a Dio e quando la persona spirituale avrà raggiunto il massimo dell'umiltà allora si compirà l'unione spirituale fra l'anima e Dio salita del Monte Carmelo inoltre teniamo presente che la stessa consapevolezza deve essere anzitutto consapevolezza accettante ovvero sempre più disposta all'accettazione delle cose così come sono anche se non sono come noi le vorremmo questo tipo di accettazione chiaramente non ha niente a che fare con l'accettazione intesa come passiva rassegnazione inoltre cosa importante che però tendiamo a dimenticare l'accettazione fa parte integrante della consapevolezza infatti ricordiamoci che la consapevolezza si definisce attenzione non giudicante cioè attenzione accettante se non è attenzione non giudicante non è sati non è la consapevolezza meditativa che mira a trasformare e a fare del bene e deve essere inoltre sostenuta da pratica e da studio diciamo per chi non ha familiarità con questi temi che la parola attenzione va sottolineata una volta non giudicante che è come dire innocente è da sottolineare tre volte infatti la maggior parte di noi è molto abituata all'attenzione giudicante ovvero quell'attenzione soprattutto sensibile al negativo negli altri e in noi molto 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 tutti noi sappiamo quanto sia diffusa questa modalità anzitutto nel mondo occidentale dove noi siamo questo tipo di attenzione certamente non saggia è abituata a guardare con occhio critico quello che fa e che dice una persona che non ci piace cercando così conferme alla nostra percezione negativa ebbene proprio questo genere di attenzione è un sistematico accendere il fuoco dell'avversione ed è dunque una sistematica coltivazione di sofferenza dunque dopo aver cercato di illustrare la notevole corrispondenza tra accettazione attiva e consapevolezza sarà bene fare qualche esempio supponiamo di trovarci di fronte a una persona ingiusta e disonesta cosa vuol dire accettare una persona ingiusta e disonesta non vuol dire certo avallare condonare la sua ingiustizia e la sua disonestà vuol dire accettare e se possibile rispettare compassionevolmente questa persona questo essere confuso dolorante e violenta e al tempo stesso opporci alla sua ingiustizia e alla sua disonestà e vuol dire anche accettare il disagio che questa persona genera in noi questo non è per niente facile ma è quello di cui si parla quando si parla di accettazione intendere male l'accettazione porta a problemi e difficoltà e fa vittime in ambito spirituale se noi però siamo in un atteggiamento accettante e rispettoso nei confronti di questa persona e del nostro dolore la nostra opposizione alla sua ingiustizia alla sua mancanza di onestà verrà da una base non già di reattività cioè di controaggressività ma piuttosto da uno sfondo di relativa serenità perché siamo fondati sul rispetto e sull'accettazione quindi la nostra azione sarà più pulita e più capace di discernimento rispetto a un'azione reattiva in cui c'è solo inimicizia e rabbia sapete il Buddha ha una una bella definizione della rabbia quando dice la rabbia è una pianta dalla cima dolce ma le radici sono molto amare quindi no quando noi partiamo in quarta perché siamo arrabbiati sicuri che è giusto che gli diremo il fatto suo eccetera eccetera è dolce poi come ci ritroviamo dopo la scenata che abbiamo organizzato sono le radici amare e anche le conseguenze della nostra rabbia naturalmente cosa succede che a volte quando uno si occupa di buddismo e le persone sanno poco della faccenda uno si sente di dire ah tu sei di quelli che non si arrabbiano mai non è così però ci si può arrabbiare in un modo diverso cioè la rabbia comanda per un po' poi non più san paolo è un po' più indulgente del buddha perché dice arrabbiatevi ma che il sole non tramonti sulla vostra rabbia cioè il veleno e il risentimento dobbiamo prendere atto che l'avversione così come l'attaccamento ci ottunde cioè non ci fanno capire la consapevolezza accettante è quindi strumento per eccellenza di comprensione infatti l'accettazione è il contrario sia dell'avversione sia dell'attaccamento ora accettazione della persona aggressiva non significherà certo inghiottire le angherie che scoggi da questa persona ciò sarebbe semplicemente frutto dalla nostra paura invece grazie alla pratica potremmo sentire in noi un tranquillo coraggio una pazienza in ultima analisi una fiducia nel trattare con questo caso difficile pertanto la vera accettazione è un'esperienza molto attiva ed è sempre intessuta con la consapevolezza lo stesso vale per quanto riguarda noi stessi infatti un atteggiamento di non accettazione nei nostri confronti blocca la nostra crescita lo psicologo Carl Rogers sottolineava spesso che l'accettazione di cui stiamo parlando è fondamentale se vogliamo cambiare mentre al contrario se siamo critici giudicanti e freddi nei nostri propri confronti non otterremo molto quindi parliamo di una dimensione assolutamente cruciale ecco due minuti di silenzio e di raccoglimento che ci aiutano a procedere insieme raccolti aiutati dall'attenzione al respiro questo riposa e apre riflettiamo ora un momento su che cosa facciamo quando una grande avversione ci possiede di frequente la nutriamo la irrobustiamo e la solidifichiamo con che cosa? con la proliferazione mentale la betoniera oppure la agiamo attraverso azioni e parole cioè diventiamo pericolosi per noi stessi e per gli altri altra possibilità cerchiamo di ignorarla e di reprimerla animati paradossalmente da avversione per l'avversione cioè noi siamo dominati dall'avversione ma non la incontriamo veramente siamo alla mercè dell'avversione ma non la vediamo è se vogliamo una situazione piuttosto drammatica ma poiché è piuttosto frequente finiamo per abituarci ad essa e a considerarla normale per fortuna ha la caratteristica il cammino interiore di farci mettere in discussione tutto ciò che consideriamo normale allora quando è che possiamo entrare in contatto con l'avversione faccia a faccia questo può accadere solo se attiviamo la consapevolezza non giudicante ovvero la consapevolezza accettante ma se non c'è il ricorso a questo strumento noi rimarremo invischiati nell'avversione anzi c'è come un piacere nel rimuginare i motivi dell'avversione molte volte cambiando qualche virgola forse non è inutile a questo proposito sottolineare che guardare l'avversione secondo consapevolezza non giudicante tutto significa forché indulgere nell'avversione come spesso facciamo e che aumenta la tossicità in circolo e sempre parlando di accettazione vera un altro modo di definirla potrebbe essere quello di spaziosità contemplante ripeto spaziosità contemplante dunque la consapevolezza o attenzione non giudicante oltre a includere la dimensione dell'accettazione include quella della spaziosità mentale il che infatti è l'opposto esatto della tipica contrazione che si accompagna agli inquinanti e alla paura che fa parte degli inquinanti è un aspetto dell'avversione cosicché grazie alla spaziosità contemplante veniamo realmente in contatto con la sofferenza causata dall'avversione o dall'attaccamento o dall'ignoranza la incontriamo e comprendiamo quanto sia perfino più dolorosa della stessa situazione che l'ha innescata sono scoperte importanti anche se a una parte di noi piacerebbe non farle ma sono fondamentali per andare avanti a questo punto sorge con naturalezza una spinta al cambiamento tuttavia il terreno è accidentato perché siete accorti forse tuttavia mi pare cruciale capire che c'è una parte di noi stessi che è molto ambivalente riguardo alla possibilità di cambiare sì tutto questo mi interessa però ambivalenza forte anche persone che praticano da tempo ossia da un lato uno vuole sinceramente modificare alcuni nostri aspetti insoddisfacenti e difficili dall'altro invece non si intende cambiare il proprio modo di essere la possiamo appunto definire la nostra ambivalenza fondamentale che è estremamente importante rendersene conto al vivo la riflessione su questo tema ovviamente aiuta ma ancora di più è la pratica che aiuta infatti sia la meditazione quotidiana sia la pratica della consapevolezza in azione dovunque è bene prefiggersi un periodo non troppo lungo in cui cercheremo di essere presenti in azione io faccio sempre come esempio non so perché mi viene sempre quello il supermercato è ricco è ricco di stimoli il supermercato essere presenti al supermercato o in qualunque altro posto quindi sia la pratica seduta sia la pratica in azione inducono piano piano una riduzione una limatura del nostro attaccamento compreso l'attaccamento a ciò che è abitudinario e la relativa avversione al nuovo al cambiamento e questa è una realizzazione di una certa importanza che in genere avviene in maniera lenta e graduale in una specie di successione di micromutazioni fino al momento in cui vediamo con chiarezza che quando sorge l'avversione possiamo smettere di alimentarla e con gioia la possiamo lasciare andare e lo stesso si dica dell'attaccamento e dell'ignoranza l'accettazione e comprensione ci fa vedere quanta cieca fiducia riponevamo nell'avversione quanto venivamo incantati da essa e quanto sia invece possibile sentirsi attratti da una prospettiva di pace e di libertà ci saranno certamente occasioni in cui ricadremo nella vecchia modalità avversiva ma ci saranno anche molte situazioni in cui questa reattività non ci catturerà più né tantomeno ci incanterà non solo ma insieme a questo sereno disincanto e la parola delle scritture vedremo sorgere sempre più forte la fiducia nella pratica e la gratitudine per essere sul cammino non ricordo chi è l'autore di queste utili annotazioni contemplare l'attaccamento con consapevolezza ci dona un tremendo coraggio non soltanto godiamo delle occasioni in cui otteniamo ciò che vogliamo ma inoltre non siamo più portati via dalla frustrazione quando non otteniamo ciò che vogliamo sono poche parole ma c'è un universo dietro l'importanza di ottenere quello che vogliamo e frustrazione se non l'otteniamo tutto comprensibile a un livello ma diciamo che c'è un livello più ampio molto più ampio in cui questa cosa dà un pugno un pugno di non ottenere quello che volevo diventa un solletico la spaziosità la spaziosità interiore molti di voi ricorderanno quella metafora che viene usata del cucchiaino di sale il cucchiaino di sale messo in un bicchiere rende l'acqua molto amara un cucchiaino di sale messo in un grande recipiente non si sente nemmeno ecco un lavoro il lavoro interiore per diventare sempre più spaziosi dentro sempre più aperti dentro diventiamo più liberi infatti la consapevolezza ci dona una spaziosità mentale possiamo finalmente rilassarci e lasciare andare la nostra abitudine ad attaccarci a reificare l'esperienza a contrarre le nostre menti intorno a quello che vogliamo la consapevolezza ci dà la capacità di sentire compassione allorché vediamo la sofferenza generata dall'attaccamento infine scopriamo che per essere felici non abbiamo assolutamente bisogno di attaccarci a qualche cosa o di ottenere sempre quello che vogliamo ci rendiamo conto infine che coraggio spaziosità mentale compassione ci rendono sempre meno scettici circa la possibilità di essere più felici la proliferazione mentale eccoci è un argomento cruciale o proliferazione emotivo concettuale il nome il nome in lingua pali è papancia che un insegnante americano ha paragonato a un frutto tropicale mi ricorda un frutto tropicale papancia allora la proliferazione mentale papancia è una specie di betoniera cioè è quella cosa che ci fa solidificare l'avversione e l'attaccamento è proliferando con la mente che rendiamo solida una cosa mentre se riuscissimo a dimorare nella consapevolezza silenziosa quella stessa esperienza non avrebbe più il potere che le viene impartito dalla proliferazione dalla betoniera quindi non dobbiamo sorprenderci se la pratica della meditazione mira a ridurre in primo luogo l'incessante lavorio della mente questo continuo mulinello della proliferazione mentale che meccanicamente conferisce corposità e solidità a ciò che per sua natura è solo un flusso cangiante di sensazioni vorrei a questo punto ricordare che affinché possano crescere qualità spirituali quale l'accettazione il lasciare andare la gentilezza amorevole la compassione è necessario che cosa un costante e fiducioso lavoro interiore l'insegnamento del Buddha mette al centro di tale lavoro la coltivazione della mente cuore grazie alla pacificazione e alla consapevolezza è possibile vedere quali sono le inclinazioni della nostra mente ed è possibile comprendere se esse giovino a noi e agli altri o se piuttosto generano sofferenza in noi e negli altri la nostra mente resa duttile e malleabile dalla pratica parole dei testi pratica meditativa sarà sempre più in grado di scegliere e scegliere è libertà quali inclinazioni coltivare e quali lasciare andare questa è una svolta molto graduale ma è fondamentale lo suggerimento pratico sempre a proposito del problema fondamentale cioè l'attaccamento e con l'attaccamento gli altri inquinanti periodicamente possiamo dedicare una mezza giornata a domandarci ogni tanto dov'è l'attaccamento ora dov'è il mio attaccamento ora così per l'avversione in genere questo esercizio sapete cosa fa? ci dispiace e ci piace al tempo stesso ci dispiace perché? perché non immaginavamo di essere tanto attaccati a questo e a quello ci piace se siamo in un cammino interiore perché comincia a farci capire il potere degli inquinanti e inoltre ci aiuta a comprendere che per anni avevamo relegato l'attaccamento soltanto a certe aree anche perché avevamo la tendenza a identificare l'attaccamento con gli oggetti dell'attaccamento e non già con la forza la potenza dell'attaccamento il che richiede appunto un addestramento a osservare la nostra mente e le nostre emozioni tutto ciò evoca per me in qualche modo le parole di Erich Fromm nel suo bel libro L'arte di amare dice Fromm è l'amore un'arte? allora richiede sforzo e saggezza oppure l'amore è una piacevole sensazione è qualcosa in cui imbattersi è questione di fortuna questo volumetto contempla la prima ipotesi arte mentre è fuori dubbio che oggi si creda alla seconda la gente non pensa che l'amore non conti anzi ne ha bisogno corre a vedere serie interminabili di film d'amore felici o infelici ascolta canzoni d'amore eppure nessuno crede che ci sia qualcosa da imparare in materia di amore dunque noi facilmente finisce la citazione di Fromm qui dunque noi facilmente tendiamo a vedere l'oggetto dell'attaccamento ma trascuriamo di occuparci della cosa più importante che è il potere dell'attaccamento così per quanto riguarda l'amore ci fa notare Fromm la maggior parte di noi è interessata soprattutto a essere amata cioè come al solito l'ego è al comando infatti questa questo significa poca curiosità per l'altro e minimo interesse circa una concezione più ampia dell'amore come probabilmente non sarà sfuggito a molti dei presenti il criterio col quale procediamo in questa esposizione è un criterio circolare cioè si ritorna periodicamente su alcuni temi importanti già trattati al fine di approfondirli dunque la meditazione di chiara visione se perseguita a lungo e con tenacia ci fa diversi doni uno di questi doni di cui lì per lì faremmo volentieri a meno è proprio il dono di mostrarci con chiarezza crescente la forza l'energia negativa degli inquinanti come già dicevamo una semplice conoscenza intellettuale della cosa anche se accurata non è in grado di dischiuderci il panorama inquietante di cui stiamo parlando attenzione a volte le persone pensano che sentendo queste cose che qualsiasi forma di pensiero è proliferazione no attenzione c'è la riflessione deliberata che non c'è niente a che fare con la proliferazione e la riflessione deliberata è usata non a caso in varie scuole forse non in quella antica che io conosco un po' meglio ma in altre scuole la riflessione deliberata è molto usata per esempio parlavamo della rabbia nella tradizione antica si tratta di cogliere di cogliere al vivo la rabbia nelle tradizioni successive anche però si fa il ragionamento a chi fa bene la rabbia cosa fa a me cosa fa all'altro cosa può succedere se la rabbia è forte e noi siamo poco allenati non facciamo né il modo teravada antico di sentire dove pulsa la rabbia né quello del buddismo successivo di ragionare sulla rabbia ma che ragionare ragionare noi ci vogliamo arrabbiare punto diciamo inoltre che l'imbattersi in questo scenario inquinanti e simili può avere in genere due effetti opposti sui meditanti infatti su alcuni l'impatto è negativo cioè demotivante si vede quel discreto numero di abbandoni della pratica che ogni anno noi verifichiamo a Roma nella nostra associazione mentre su altre persone al contrario il contatto con gli inquinanti è vissuto come una interessante sfida che è necessario accogliere se aspiriamo davvero a una crescita abbiamo dunque accennato alla meditazione di chiara visione meditazione che è fondata su due pilastri e cioè la coltivazione della pace interiore e la coltivazione del discernimento la pace mentale piccola o meno piccola che sia è la base diciamo che senza pace non si può fare nulla il cammino verso la liberazione è costituito letteralmente di virtù e di valori e l'avanzamento lungo questo cammino prezioso non può aver luogo senza una certa misura di pace ricordiamo e ieri ce ne ha parlato molto Marco Vannini maester Eckhart quando scrive la persona nobile corre costantemente verso la pace che bella immagine e ancora ecco le lucide parole di un altro mistico cristiano Jean-Pierre de Cossade del cavallo tra il 600 e il 700 non si costruirà mai nulla di solido se non nell'incrollabile fondamento della pace infatti la mancanza di questa pace è per l'anima ciò che la mancanza di salute è per il corpo e così come la malattia indebolisce le forze corporali allo stesso modo tutto ciò che turba e altra la pace che è quasi la salute dell'anima la rende debole e malata sono parole molto forti e molto precise ora nel caso che la nostra mente ci sussurrasse che queste considerazioni sono interessanti sì però sono molto datate Einstein Reck del 1300 De Cossade tra il 600 e il 700 possiamo rispondere con le parole di una grande guida spirituale voglio dire una grande figura spirituale da poco scomparsa e cioè il cardinal Martini che sottolinea una questione cruciale ossia lo stretto legame tra pace interiore e silenzio interiore ascoltiamolo senza silenzio mi sento dilacerato dalla molteplicità delle cose che mi cadono addosso e che vorrebbero monopolizzarmi ho dunque bisogno del silenzio come ascolto di Dio così come ho bisogno dell'aria per respirare per questo fin da anni lontani ho sempre procurato e procuro tuttora di avere ogni giorno alcune ore di assoluto silenzio e ancora mi sembra di essere riuscito dopo un po' di anni a dare una maggiore unità ai miei impegni disparatissimi proprio grazie ai tempi della preghiera e del silenzio e notate cosa dice adesso che cerco di aumentare nella misura in cui le sollecitazioni crescono in India si dice un praticante va dal dal suo maestro e dice guardi io non medito più un'ora al giorno mi sono capitato un sacco di cose da fare un sacco di problemi quindi medito mezz'ora e il maestro ha sbagliato tutto dovevi prediare due ore visto che eri in questa situazione è difficile è un po' paradossale però c'ha un come dire un grosso grano di verità e piano piano negli anni il tempo per la meditazione lo troviamo questa sincera illusione di non trovare il tempo ha fatto venire in mente a un simpatico maestro orientale una trappolina molto carina non hai tempo? benissimo cinque minuti tutti i giorni senza eccezione cinque minuti a nessuno si può raccontare che non c'ha cinque minuti quindi cosa succede? che questi cinque minuti un mese dopo l'altro fanno una base poi verrà da sé portarli a dieci e un po' di più capite? quindi ci sono varie come potremmo dire varie espedienti varie tecniche per superare le nostre resistenze prima e la nostra ambivalenza quando cominciamo al lavoro interiore per concludere questa carrellata sulla pace vorrei ancora citare Jean-Pierre de Cossade il grande principio della vita interiore sta nella pace del cuore bisogna custodirla con tanta attenzione che non appena essa riceve qualche colpo occorre abbandonare ogni altra cosa per applicarsi a ristabilire questa santa pace proprio come durante un incendio si lascia tutto per andare a spegnere il fuoco mi pare che sia stato chiaro cercando ora di commentare mi pare evidente che questa sollecitudine che induce a stare attenti a ciò che la fiamma della pace non si languidisce non si languidisca presuppone un addestramento spirituale infatti senza una certa dimestichezza con la pratica di meditazione o di preghiera non è facile che sorga in noi la percezione del grande valore della pace percezione che si accompagna in genere con un certo disincanto nei confronti di una vita magari dinamica ma piuttosto distratta o disinteressata riguardo all'interiorità mi pare inoltre che queste ultime parole del decossade mettano bene in evidenza l'assoluta priorità della pace nel percorso interiore priorità che ritroviamo nella spiritualità buddista samadhi come base della chiara comprensione vi passano dunque la pace come dimensione preziosa da nutrire accuratamente ben diversa dalla pace come riposo dopo l'attività ancora la pace interiore sulla quale ci siamo fin qui diffusi oltre a essere un evidente valore in sé è anche strumento indispensabile per il progresso interiore infatti come abbiamo già detto senza calma concentrata la vipassana sarà priva di base inoltre e questo è particolarmente importante la pace interiore ci rende più aperti più ricettivi più equanimi e dunque più liberi nota bene ci sono meditanti che hanno una certa facilità a raggiungere la calma concentrata se hanno una buona comprensione del dharma sanno che questa loro capacità ripetiamo perché è importante l'abbiamo già detto questo se ben coltivata e diretta può diventare un aiuto ad entrare nella pace interiore tuttavia come abbiamo già osservato occorre capire che la calma concentrata che si raggiunge con la meditazione in sé non conduce automaticamente alla pace interiore è solo uno strumento è solo uno strumento per accedere alla pace interiore occorrono oltre alla calma concentrata i fattori dell'equanimità e della gentilezza amorevole e naturalmente una buona misura di non attaccamento in proposito non è difficile capire che qualsiasi moto di attaccamento nei confronti della pace interiore non fa che distanziarci da essa vorrei sottolineare ancora una volta come tutto questo prenda tempo ci può giovare questa acuta osservazione di Richard Shankman riflettete su tutto il tempo che avete passato standone a pilota automatico comandati dai vostri mi piace e non mi piace e della vostra mente distratta cioè un sacco di tempo passato ad addestrare la vostra mente a essere distratta così dice Shankman indubbiamente parecchi anni di regolare pratica di consapevolezza rinforzata da ritiri periodici portano benefici di una certa importanza in particolare vorrei sottolineare questo a un certo punto del cammino ci avvediamo che qualcosa si è come ampliata in noi ovvero in certi momenti avvertiamo quella spaziosità interiore che ci conforta e inoltre ci fa capire quanto per contro eravamo abitualmente contratti tempo addietro dunque più spaziosità meno contrazione meno paura paura che sta alla base della contrazione domandiamoci ora che cosa ci porta nel tempo la pratica della meditazione di consapevolezza a parte variazioni individuali direi che le seguenti paiono le cose più importanti meno pensiero compulsivo cioè meno proliferazione meno egoreferenzialità più distensione fisica e mentale meno ansia maggior capacità di stare nel presente e come già si accennava questo insieme di cose spesso viene percepito come una certa spaziosità mentale che viene gradualmente a sostituirsi a quella tipica contrazione generata dalla paura Krishnamurti si è molto occupato della paura e ci sfida ci sfida dicendo voi pensate di non avere paura e aggiunge il corrispettivo di un ridacchiamento e poi c'è una conclusione un po' terribile noi ribolliamo costantemente nella paura allora nella tradizione antica buddista paura è parte dell'avversione ma nella nella tradizione successiva gli inquinanti vengono ridotti a due attaccamento e paura se poi chi medita è sulla via diligentemente da molti anni allora l'esito sarà più ricco la sensazione di spaziosità interiore da occasionale diventa più frequente calma concentrata e vipassana sono ormai abbastanza accessibili nella meditazione sempre più si manifestano incoraggianti sprazzi di pace interiore direi poi che la cosa più importante è questa che cominciamo a sviluppare un vero e proprio gusto per la meditazione sentiamo distintamente che fa parte della nostra vita ed è una parte importante sapete agli inizi agli lunghi inizi di un cammino meditativo noi facciamo il retto sforzo di tornare al respiro per esempio ma la cosa divertente è distrarci e poi però ci tiriamo di nuovo nella concentrazione ecco a un certo punto c'è quello che a me piace chiamare un cambiamento evolutivo cioè ci piace stare nella meditazione ci piace stare raccolti e mentre il jazz della mente proliferante è una specie di lo viviamo come una specie di condanna non è più la parte divertente la parte divertente la parte che ci attrae è la pratica è un passaggio notevole questo qua inoltre arrivati a questo punto contenti della presenza ormai stabile della meditazione nella nostra vita e contenti dei benefici psicologici ricevuti dal cammino interiore è possibile che cominciamo a riflettere sull'aspetto più specificamente spirituale della meditazione forse vedremo che la fiducia e la pazienza sono diventate in noi più robuste di un tempo inoltre potremmo scoprire che in noi si è molto attenuata la tendenza a programmare il nostro futuro vicino e lontano e questo va da sé è un ulteriore passo verso la capacità di abitare il presente siamo comunque a un gradino abbastanza avanzato di sviluppo arrivati al quale però può venire in mente la definizione di liberazione o nirvana che compare nelle scritture ossia la fine irreversibile di attaccamento avversione confusione allora anche se ci sentiamo ancora lontani da questo traguardo nulla ci impedisce di formulare un'intenzione da ribadire poi periodicamente cioè l'intenzione di raggiungere la liberazione a beneficio nostro e di tutti gli esseri questa intenzione è tra le altre cose un modo di familiarizzarci con l'idea della liberazione invece di considerarla non di rado con timore e tremore e ce la fate altri cinque o quattro minuti? di recente mi sono imbattuto in un autore spirituale che non conoscevo Pablo Dorsi religioso spagnolo in un suo libretto intitolato Biografia del silenzio fa la seguente osservazione come molti dei miei contemporanei ero convinto che quanto più esperienze facessi e quanto più intense e folgoranti fossero prima e meglio sarei arrivato alla pienezza come persona oggi so che non è così la quantità di esperienze e la loro intensità serve solo a stordirci vivere troppe esperienze di solito è nocivo non credo che l'uomo sia fatto per la quantità ma per la qualità l'anima umana si nutre solo a un ritmo pacato trovo bellissimo commentando io direi anzitutto che queste osservazioni appaiono molto in linea con la pratica della meditazione di consapevolezza osserviamo poi una cosa tipica del nostro tempo cioè l'offerta da parte dei mezzi di comunicazione di molte emozioni e di molte esperienze non so se l'avete mai sentito spesso evidentemente è una proposta che riscuote successo altrimenti non sarebbe così frequente personalmente mi lascia perplesso l'idea che le emozioni e le esperienze oltretutto senza specificare quali sono offerte in blocco e siano avidamente considerate tutte appetibili a me pare invece che queste proposte siano inquietanti e dicano qualcosa sullo smarrimento e sulla confusione che caratterizza il nostro tempo le nostre vite l'insegnamento di Pablo Dors è naturalmente quello di lasciar perdere queste offerte con tutta la loro inconsistenza a dir poco e invece mettersi il più possibile come dice l'autore a un ritmo pacato mi sembra interessante e non certo casuale che qui ritorni ancora una volta la pace ritmo pacato contrapposta evidentemente a quella non pace per eccellenza fatta di tante emozioni e di tante esperienze da notare che nella pace nel ritmo pacato nella fretta di piano c'è una forma di energia tranquilla e raccolta che tipicamente ha a che fare con il silenzio e con la semplicità ancora Pablo Dors all'inizio tutto mi sembrava più importante che meditare ma poi è arrivato il momento in cui sedermi e non fare altro che rimanere in contatto con me stesso presente al mio presente ha cominciato a sembrarmi la cosa più importante di tutti direi commentando che molti di noi si riconoscono in questo brano finita la luna di miele con la meditazione perché quando si comincia a meditare non sempre ma spesso c'è una luna di miele finisce la luna di miele comincia la fatica di meditare ovve tutto appunto sembra più importante della meditazione segue poi a patto che la nostra storia con la meditazione non sia finita una bella svolta ora la meditazione ci appare in tutta la sua importanza e mia esperienza immagino di tanti segnanti di Dharma che la maggioranza dei meditanti che hanno persistito per qualche anno nel cammino non intendono tornare indietro inoltre hanno compreso che i periodi di aridità di difficoltà se contemplati non soltanto non sono un ostacolo ma al contrario contribuiscono all'approfondimento della pratica ecco mi piace concludere con un brano del teologo Karl Rahner tutto dipende da come sopportiamo la vita quotidiana essa può renderci quotidiani ma può anche renderci liberi da noi stessi come niente altro infatti se attraverso la vita quotidiana ci lasciamo strappare a noi stessi ai nostri desideri al nostro trinceramento in noi stessi cioè se nell'amarezza non diventiamo amari se nell'ordinarietà non diventiamo ordinari nella delusione non diventiamo delusi se invece dalla vita quotidiana ci lasciamo educare alla bontà alla pazienza alla pace allora la vita quotidiana diventa essa stessa preghiera o possiamo legittimamente aggiungere diventa essa stessa meditazione amèn grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti